Sei categorie per suddividere la popolazione nella fase 2 della campagna vaccinale. Con l'avvio delle vaccinazioni agli over 85, la prima fase della campagna vaccinale contro il coronavirus è entrata nel suo stadio finale. In certo qual modo, dall'1 marzo, inizierà la seconda fase con l'avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico. In questo senso, le regioni si sono mosse in ordine sparso. Nel frattempo, però, a livello nazionale, la popolazione è stata suddivisa in sei fasce che scandiranno il proseguo delle somministrazioni di massa. La precedenza verrà data ai soggetti a rischio a causa di varie patologie. Come sono state organizzate le sei categorie, lo ha spiegato Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testacollo dell'Austro-Romagna, in una diretta Facebook con l'onorevole Marco Di Maio. Ci tengo a dire che tutto ciò che riguarda la pandemia, sembra paradossale ma è un dato al quale ci dobbiamo adattare, può essere temporaneo perché la pandemia ogni giorno cambia, ogni giorno cambiano le esigenze e quindi anche le priorità potrebbero subire delle variazioni, purché siano analizzate, giustificate. Questi adattamenti in corso d'opera sono ovviamente importanti e devono essere accettati. La categoria 1 contiene quelle persone sulle quali ci siamo intrattenuti più volte comprensibilmente, che sono state chiamate persone estremamente vulnerabili a prescindere dall'età. Quindi se uno rientra in una di queste categorie, che adesso vedremo nel dettaglio, può avere 20 anni, 40 anni, 70 anni, sarà vaccinato per primo. E ci sono aree di patologia con dettagli di situazioni. Facciamo alcuni esempi perché è difficile entrare nel dettaglio su tutti. Malattie respiratorie. Ricordo che più volte ci è stato richiesto se la fibrosi polmonare idiopatica e altre patologie che necessitano di ossigenoterapia siano da considerare tra le prime. Sicuramente sì. Lo stesso vale per le malattie cardiocircolatorie. Pensiamo per esempio alla prevalenza del diabete e ad altre malattie endocrine importanti come il morbo di Addison. Ecco, questi soggetti che rientrano in categorie ben definite, e qui è molto ammirevole lo sforzo che i clinici hanno fatto di supporto ai tecnici per definire le categorie veramente a rischio, ecco, questi saranno vaccinati per primi. Lo stesso, altra categoria molto rappresentata, le malattie cardiovascolari, gli ictus, gli stroke, specie quelli che hanno esiti, che vengono classificati con criteri internazionali, maggiori o uguali a tre, quindi soggetti più gravi. Poi entriamo nell'ambito, sempre molte richieste su questo tema, patologia oncologica e emoglobinopatie. Anche questa categoria è stata inclusa in questo raggruppamento prioritario. Infini, trapiantati. Da ultimo vorrei ricordare, l'abbiamo detto tante volte, l'obesità è una variabile di rischio autonoma. La grave obesità, identificata con un BMI maggiore di 35, sono i grandi obesi, quella cosiddetta categoria di grandi obesi. Questi, per il rischio che corrono, devono essere vaccinati per primi. Quindi, la prima categoria, persone estremamente vulnerabili, non conta l'età. Dopodiché c'è la categoria 2-3, che sposta l'interesse, questa volta rigorosamente, all'età. Sono gli over 70 e più esattamente un primo scaglione fra i 75 e i 79 e un secondo scaglione fra i 70 e i 74. Perché? Perché questa categoria, mediamente, presenta un tasso di letalità attorno al 10%, che non è trascurabile 1 su 10. Ci spostiamo nella categoria 4. Scendiamo per età, scendiamo a questo punto al di sotto dei 70 anni e teniamo conto di quelli che al di sotto dei 70 anni abbiano comorbidità, quindi malattie associate, che aumentano il rischio clinico. E anche qui c'è un dettaglio di malattie che possono essere ricondotte. Per esempio, è riportato l'HIV. Sono riportate... Direi, c'è un buon dettaglio. Rientriamo nella categoria 5. La categoria 5 è ancora successiva in termini di tempo. La categoria 5 include le persone tra i 55 e i 69 anni. È una forbice abbastanza grande, all'interno della quale la percentuale di letalità può andare dal 3% allo 0,5%. Sono ovviamente tassi di letalità minori, ma non sono trascurabili. E infine la categoria, fra virgolette, meno a rischio di sviluppare una malattia grave, soggetti di età inferiore ai 55 anni, esattamente dai 18 ai 54, questa volta senza condizioni che aumentano il rischio, perché se si sussistessero condizioni che aumentassero il rischio, si sposterebbero alla categoria che abbiamo visto sopra. Qui un distinguo che il legislatore ha voluto includere, categorie a particolare rischio all'interno di questo sesto raggruppamento. E sono il personale scolastico, universitario, docente e non docente, le forze armate e le forze di polizia, gli operatori nei penitenziari e coloro che vivono nei penitenziari, luoghi di comunità più in generale e altri servizi essenziali, per esempio civili e religiosi. Come vedete, si è cercato di fare un affresco che cerchi di includere in una logica di rischio, essenzialmente una logica di rischio, tutti coloro che dovranno comunque essere vaccinati, ma verranno messi in fila. Grazie.